Ragazzoli, questo è un video per farvi vedere che non solo i gatti si lavano, anche i conigli, guardate come si sta lavando. È importante farvi vedere queste cose, è importantissimo ragazzi, perché così abbassiamo gli stereotipi che c'è solo il gatto si lava, solo il gatto, solo il cane. Il coniglio è molto sottovalutato, ma ve lo dico seriamente, anche i piedi, cioè si sta lavando i piedi, è un pulitone di quello unico, non fa assolutamente puzza, ovviamente la gambetta è questa, va cambiata, di che è lunga almeno ogni 3-4 giorni, ma ci vuole veramente un secondo per chi gli mette il giornale e basta. Non mettetegli il pellet ragazzi, perché mi stava diventando diabetico, perché stava bevendo in continuazione, quindi no al pellet, veramente solo il giornale, paglia e i suoi coccandini, una volta al giorno, stop it now. Continua lui ovviamente a lavarsi, e ci sta assai ragazzi, almeno anche 5 minuti, quando inizia non finisce più. Guarda la testolina bionda, il mio coniglio olandese, ancora un bimbo, ora fa a marzo 5 mesi. E niente, volevo farvi vedere un po' questa cosa, che secondo me, ripeto per me, è molto importante. E niente, Albertino vi saluta, con lo sfondo di Baby Mia Cicciobello. E niente, ciao ciao.